Al via i nuovi lavori di messa in sicurezza idraulica per il torrente Ciuffenna nel centro abitato di Terra Nuova e da Valle dello stesso, verso lo sbocco in Arno. Il cantiere rimarrà aperto fino ad inizio 2018. Come avevamo già annunciato siamo in procinto, anzi dal 10 di aprile sono stati affidati e sono iniziati i lavori per la riduzione del rischio idraulico all'interno del centro abitato di Terra Nuova. Questi lavori si trarranno fino al 4 febbraio 2018, questo è il cronoprogramma, però contiamo di riuscire anche a svolgere le lavorazioni prima del termine prescritto dal cronoprogramma. Ecco le singole opere nello specifico. Il 2010 con la costruzione della bocca trata nella frazione della penna e la costruzione degli argini, delle sponde fino giù al ponte alle monache. Con queste lavorazioni inizieremo i lavori nella zona del ponte Mucarini dove costruiremo delle argini e le sponde nuove del torrente per contenere la portata duecentennale calcolata per lo sviluppo di queste opere. Interverremo su tre punti specifici, quello dei ponte Fespi, delle ponte alle monache e delle ponte marini dove ci saranno queste costruzioni di argini e terre armate per il contenimento della penna. Ed ecco invece l'impegno di spesa. Si tratta di un primo lotto di interventi a cui succederà poi successivamente un secondo lotto. Questo primo lotto consta circa 1 milione e 600 mila euro. Il secondo lotto avrà un valore invece che va a compensare la cifra rimanente ai 3 milioni di finanziamento regionale, quindi 1 milione e 400 mila euro.